ciao a tutti oggi parliamo della paralisi da zecche prima di iniziare questo video vi ricordo sempre che siete interessati agli argomenti medicina veterinaria del cane del gatto se siete proprietari di un cane di un gatto vi ricordo di iscrivervi qua sotto al canale questo canale cerco di spiegarvi in modo semplice le patologie del cane del gatto in modo tale che se una di queste viene diagnosticata il vostro cane vostro gatto possiate chiaramente capirne di più inoltre se volete supportare il progetto vi ricordo sempre di mettere mi piace al video che aiuta ovviamente la divulgazione di questo video oggi parliamo della paralisi da zecca delle zecche abbiamo parlato tantissimo sia quando abbiamo parlato di antiparassitari esterni vi metto il video qua sopra sia quando abbiamo parlato delle zecche delle malattie infettive che trasmettono le zecche vi metto anche qua questo video qua sopra in sovraimpressione alla fine del video troverete i video che ho parlato ora fondamentalmente oggi invece ci soffermiamo sulla paralisi da zecca ovvero sull'eliminazione di una tossina da parte di alcune tipologie di zecche soprattutto dermacentore exodes che fondamentalmente è un'olociclotossina che va ad agire a livello presinaptico l'aggiunzione neuromuscolare fondamentalmente inibisce l'acetilcolina e quindi può generare anche delle situazioni abbastanza gravi e in alcune situazioni anche letali con arresto cardiocircolatorio chiaramente fortunatamente nella mia carriera non ho visto mai questo genere di situazione però mi è capitato di vedere fondamentalmente dei cuccioli che presentavano delle zecche fondamentalmente muoversi veramente poco e una volta chiaramente uccise le zecche quindi applicate l'antiparassitario riprendere dopo qualche giorno la loro vitalità quindi mi è capitato raramente però ho visto già quello che può fare la tossina fondamentalmente trasmessa attraverso la puntura della zecca quindi generalmente essendo un'inibizione dell'acetilcolina potremmo avere anche un megaesofago secondario a questa questa liberazione di tossina è molto importante che mettiate gli antiparassitari tutto l'anno soprattutto per quanto riguarda le zecche rispetto alle pulci magari non sono sempre presenti tutto l'anno però è molto importante perché soprattutto nelle zone magari dove pascolano le pecore molto spesso i campi sono molto contaminati e non facendo più così freddo chiaramente trovate zecche quasi tutto l'anno anche se tendenzialmente dovremmo trovarla in due periodi dell'anno soprattutto primavera estate e fine autunno mentre invece le pulci le trovate praticamente tutto l'anno quindi mi raccomando mettete l'antiparassitare in modo corretto in modo tale che 1 evitate che possano gli ectoparassiti esterni trasmettere delle patologie secondarie come patologie infettive e in questo caso che possa trasmettere comunque una tossina che può chiaramente dare poi una paralisi a livello neuromuscolare gli angi differenziali tendenzialmente con la paralisi da zecca sono tutte le patologie le poliradicoloneuriti le polimiositi che possono dare la l'intossicazione del botulino fondamentalmente queste che vanno a lavorare a livello della giunzione neuromuscolare però fondamentalmente l'anamnesi e la presenza di zecche sul cane aiuta e facilita chiaramente la diagnosi e quindi di solito con l'eliminazione delle zecche si va a ridurre chiaramente la tossina in circolo e questo fondamentalmente va a aiutare poi i nostri animali non tutte le zecche trasmette la tossina e anche la tossina sembrerebbe non essere così potente in tutti i periodi dell'anno sembrerebbe essere più potente nel periodo di primavera e estate però fondamentalmente ci sono ancora delle valutazioni da fare per capire bene perché non è così effettivamente presente ripeto in 13 anni mi è capitato una volta in una cucciolata queste questi cuccioli che tra l'altro erano tipo 5 6 cuccioli 2 3 mostravano questa paralisi ed erano presenti le zecche su tutti i cuccioli ovviamente state uccise dopo qualche giorno sono si sono ripresi tranquillamente spero questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo la prossima puntata un saluto a tutti vi sia piaciuto e noi ci vediamo la prossima puntata un saluto a tutti Grazie.